Una lunga vita. Nancy vuole vivere a lungo. Vuole vivere 100 anni. Adesso ha 5 anni. Vuole vivere altri 95 anni. Allora avrà 100 anni. Suo padre ha 30 anni. Anche lui vuole vivere a lungo. Vuole vivere 100 anni. Vuole vivere per altri 70 anni. Papà, invecchieremo insieme, ok? Disse Nancy a suo padre, sì. Tesoro, invecchieremo insieme. Disse a Nancy. Poi Nancy sorrise. Ha dato a suo padre un grande abbraccio. Una lunga vita. Nancy vuole vivere a lungo. Vuole vivere 100 anni. Adesso ha 5 anni. Vuole vivere altri 95 anni. Allora avrà 100 anni. Suo padre ha 30 anni. Anche lui vuole vivere a lungo. Vuole vivere 100 anni. Vuole vivere per altri 70 anni. Papà, invecchieremo insieme, ok? Disse Nancy a suo padre, sì. Tesoro, invecchieremo insieme. Disse a Nancy. Poi Nancy sorrise. Ha dato a suo padre un grande abbraccio. Una lunga vita. Una lunga vita. Nancy vuole vivere a lungo. Vuole vivere 100 anni. Adesso ha 5 anni. Vuole vivere altri 95 anni. Allora avrà 100 anni. Suo padre ha 30 anni. Anche lui vuole vivere a lungo. Vuole vivere 100 anni. Vuole vivere per altri 70 anni. Papà, invecchieremo insieme, ok? Disse Nancy a suo padre, sì. Tesoro, invecchieremo insieme. Disse a Nancy. Poi Nancy sorrise. Ha dato a suo padre un grande abbraccio. Grazie a tutti.